queste sono le stanze queste sono le stanze guardate che schifo dove mi hanno messo guardate che schifo che cosa ho dovuto subire stanotte guardate la prima che schifo ho dovuto ucciderla guardate queste sono le mie cose guardate questo è il letto dove ero posato e sono stato costretto comunque ad alzare ad andare via perché non era possibile guardate i muri come sono guardate i muri lo schifo che c'è disinfestazione niente, anzi guardate il cuore che schifo guardate che cosa c'è qui all'ospedale guardate ce n'è un'altra le ho dovute uccidere tutte stanotte amiche secondo voi secondo voi è corretto che possa esserci uno schifo del genere qui in un ospedale dove noi noi tutti usufruiamo noi tutti i cittadini usufruiamo dove noi paghiamo le tasse per poter avere il meglio invece siamo costretti ancora a vedere queste cose e nessuno fa niente perché da quanto sono venuti a conoscenza sono già a conoscenza hanno già messo per iscritto già da anni e ancora nulla è stato fatto è inconcepebile inamissibile proprio inamissibile inamissibile guardate grazie a tutti grazie a tutti